Anche oggi un grande apporto frensivo, la squadra resta bene anche nelle difficoltà. Alla fine abbiamo tenuto il primo posto per quello che più conta forse. Sì, sì, non c'è da dimenticare questo intusiasco del cosa ricomprime. Il pubblico continua a sostenere te e la squadra in maniera straordinaria. Ce l'aspetteremo pure a Bari? Mi auguro di sì e credo che sia così. Noi c'è tutto il suo lavoro fondamentale perché non ci si stiene e ci dà la verità per averci venuto. Allora un grande bocca al lupo. Sì. Ciao ragazzi.